Camille, vigilia dell'anticipo dell'undicesima di campionato, big match a Civitanova, come sta la squadra e pronta a questa nuova interessantissima sfida? Sì, mi sembra che siamo pronti per iniziare quello percorso con sempre due partite la settimana. Siamo pronti, mi aspetto, penso che sarà pericoloso, in senso che l'Ube e soprattutto adesso hanno di più bisogno di una vittoria e siamo pronti per iniziare il nostro percorso lungo adesso. Senti, sono partite sempre affascinanti, sempre molto belle contro avversari di questo livello, partite sempre molto combattute. Penso anche per voi giocatori è bello poter scendere in campo. Sì, è sempre diverso di giocare contro quelli di top 4, l'Ube, Modena, quelle squadre lì, c'è sempre un po' di più emozioni, diciamo, in quelle partite lì. Come ho detto, iniziamo quelli percorsi, quelle partite lì per vedere anche dove stiamo noi, dove sono loro e poi comunque non possiamo fare errore di essere già con un passo in Sardegna e andiamo. Senti, inizio molto positivo come risultati e anche come prestazioni per Perugia, quattro vittorie consecutive, Anastasia ha dato molto campo a praticamente tutta la rosa, tu come la vedi? Sì, era molto positivo come hai detto, comunque dobbiamo avere in testa l'idea che comunque quelle quattro squadre lì non erano forse quelle del top, quelle che dobbiamo battere diciamo alla fine. Per quello ovviamente, comunque positivo, abbiamo iniziato molto positivo, però mancano ancora tanto, mancano ancora tante partite importanti, siamo sulla strada giusta, però le curve diciamo inizieranno adesso. Allora, non vuoi parlare di Supercoppa? L'ultima domanda era un po' proiettata su quella, quindi non parliamo di Supercoppa, parliamo della partita di Civitanova che può essere importante però anche come test per la Supercoppa. Sì, è un test comunque, i test sono sempre, poi l'esame è sempre diverso di test, allora pensiamo partita dopo partita, focus su una partita, adesso prima l'UBE e poi vediamo. Grazie.